Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Era un po' che non ci sentivamo. Approfitto per fare questo video dell'uscita di qualche giorno fa ormai di una versione di un aggiornamento di Luminar Neo, l'1.10. Allora in questo nuovo aggiornamento non sono stati rilasciati i nuovi tool, se vogliamo chiamarli così, nuovi strumenti, ma sono state migliorate un sacco di cose, sono stati risolti dei bug e è stato migliorato in particolare l'app scale AI che sarebbe l'ingrandimento. Allora facciamo un esempio, vediamo questa fotografia, questo animaletto dovrebbe essere un panda, credo, e vediamo che le dimensioni qui in alto sono di 615 x 407 pixel, quindi un'immagine molto piccola. Infatti se noi la apriamo vediamo che è un'immagine piuttosto sfocata, ok? Ora andiamo a trascinarla all'interno dello strumento ingrandisci upscale. Andiamo ad ingrandirla di sei volte, clicchiamo su ingrandisci. Come vedete un'immagine così piccola ci ha messo letteralmente mezzo secondo. Se adesso noi andiamo ad ingrandire l'immagine possiamo vedere la differenza di qualità. Quindi se noi adesso torniamo qui dalle nostre foto e questa era l'immagine precedente, quella a 615 x 407, mentre questa è l'immagine che è stata ingrandita. Quindi è 3690 x 2442. Vedete questo era il prima e questo è il dopo. Il prima e il dopo. Infatti se noi andiamo ad ingrandire vediamo nettamente la differenza. Questa è l'immagine ingrandita, mentre questa, se andiamo ad ingrandirla, vedete che degrada molto l'immagine. Quindi questo è un primo tool che è stato migliorato con la nuova versione di Luminar Neo. Poi c'è stata un'integrazione. Infatti se ne andiamo a vedere qui ad esempio sul Migliora con AI ma anche su altri tool, come vedete dappertutto c'è. Se voi cliccate su questa i vedete che si apre un pop up che vi spiega che cosa fa quello strumento. E in inglese se noi clicchiamo su Lear Moon ci si apre una pagina letteralmente in cui è spiegato molto bene. Che cosa fa quello specifico strumento? Se siete in difficoltà con l'inglese, io ho un Mac e in automatico su Safari cliccando qui esce traduci in italiano. Ed ecco che abbiamo la nostra pagina perfettamente in italiano. Sotto il cofano accenta io, utilizza più di un'azienda, i controlli e bla bla bla. Lascio leggere a voi. Bene, questo è stato un altro miglioramento comunque interessante. Il terzo miglioramento, se vogliamo chiamarlo miglioramento, ma è una parola un po' impropria. Se andiamo su Extra, adesso direttamente da qui possiamo andare su Marketplace e se abbiamo acquistato Luminar Neo possiamo andare a fare ulteriori acquisti se lo vogliamo. Quindi possiamo scaricare dei pacchetti. Ovviamente sono a pagamento, vedete qui c'è il prezzo, 19 euro, 29 euro, 19 euro. Ci sono tantissimi pacchetti, quindi sui preset, sui cieli, sulle LUT, eccetera. Se siete interessati è molto veloce, quindi non bisogna più andare sul sito di Luminar, ma direttamente da Luminar, se lo vogliamo possiamo scaricare degli add-ons. Ok, adesso andiamo a fare un editing di questa fotografia. Come ho sempre detto, Luminar Neo, secondo me, è un programma molto utile e veramente adatto e indicato per tutte quelle persone che amano scattare fotografie, amano uscire all'aperto, ma non amano molto fare la post-produzione. Oppure non hanno tempo o non hanno voglia di imparare a fare una post-produzione. Semplicemente perché ci sono dei software che fanno tantissime cose molto belle. Vogliamo partire da Photoshop, vogliamo andare a Capture One, Lightroom, ce ne sono tantissimi, ok, i software, ma questi software bisogna imparare ad utilizzarli. Alcuni software, ad esempio Photoshop, può fare tantissime cose eccezionali, però ha una curva di apprendimento che può essere difficile. Ci vuole tempo per saperlo utilizzare, non dico al suo massimo perché bisogna essere veramente in gamba, ma comunque per saperlo utilizzare abbastanza bene. La qualità di Luminar Neo, come ho sempre detto, è quella della semplicità. Quindi se noi abbiamo scattato delle fotografie e vogliamo avere un programma che faccia un po' tutto, probabilmente non farà tutto al massimo. Ha una qualità super straordinaria, ma fa tutto a un'ottima qualità e soprattutto all'interno dello stesso software. Allora, se vi interessa Luminar Neo, in descrizione c'è un link, se volete cliccarci sopra, sarete rimandati allo store di Luminar, e se volete acquistarlo oppure lo volete provare, vi invito a cliccare su questo link, darete una mano a questo canale, avrò un piccolissimo conoscimento se qualcuno decidesse di acquistare Luminar Neo. A voi ovviamente non costa nulla in più. Ma andiamo, dopo tutte queste ciance, a vedere di modificare questa fotografia. Allora, qui è una fotografia delle tre cimi di Lavaredo, come vedete qui, mentre questo è il Monte Paterno, e qui è Rifugio Locatelli. Questa è una fotografia che ho scattato, credo, due anni fa, se non sbaglio, o l'anno scorso, no, due anni fa, mi pare. Che cosa facciamo? Allora, come avete visto, sono andato nel mio catalogo, qui di Luminar, doppio clic e si apre la fotografia. A questo punto andiamo su Modifica. Possiamo utilizzare anche dei preset. Ok, ce ne sono molti, potete provarli se volete. Io preferisco andare su Modifica in questo video per andare a vedere un po' un editing più, diciamo così, strutturato, ma comunque molto semplice, lo ripeto sempre. Allora, la prima cosa da fare, almeno che faccio io, è andare su Migliora con AI. Quindi, cliccando qui, su Migliora con AI, come vedete, solo muovendo questa slide, già l'immagine, in generale, ha un miglioramento. Ok, cliccando qui vediamo il prima e il dopo. Come vedete, ha tratto sicuramente un miglioramento. Volendo, se nell'immagine c'è il cielo, come in questo caso, lui lo rileva, e possiamo migliorare anche il cielo. Vogliamo migliorare un po' il cielo? Io vi consiglio di non fare cose del genere. Ok, ma bisogna sempre andarci molto leggeri. Io mi fermo qua. Ok, e abbiamo già migliorato le nostre immagini. Questo era il prima e questo è il dopo. Abbiamo fatto dei piccoli miglioramenti o aggiustamenti. Poi è tutto soggettivo, ok? È bello anche editare delle immagini, perché ognuno poi ha il suo modo e ha la sua visione di un'immagine. Ora andiamo su Sviluppo. Su Sviluppo vedo che comunque è un'immagine bilanciata. Vediamo. Quindi voglio forse aumentare un po' le ombre per contrastare un po' di più. Le luci vanno bene. C'è un contrasto intelligente, quindi in automatico contrasta. Trasta, vediamo che è poco. Ok, andiamo a vedere il risultato, il prima e il dopo. Come vedete, piccoli passi, ma l'immagine è già migliorata. Acquistate un po' di profondità. Ora possiamo andare su Paesaggio e andare su Ora Dorata. Qui, come vedete, il sole che era qui a destra, stava illuminando il rifugio e quindi eravamo quasi al tramonto. Come vedete, il cielo non è ancora un cielo proprio da tramonto, ma eravamo quasi al tramonto. Ok, diciamo che voglio accentuare un po' il fatto che eravamo vicino al tramonto e quindi vado su Ora Dorata. Non farà altro che scaldare un po' l'immagine. Come vedete, scaldiamo solo un po' l'immagine in questo modo. In questo caso, migliora fogliame, non ci interessa. Potrebbe essere utile se abbiamo delle composizioni in cui ci sono delle piante, dei fiori, eccetera. In questo caso, no. La correzione dalla foschia, potremmo provare a vedere che cosa fa, ma io vi consiglio di non esagerare con la correzione foschia. Andiamo a dargliele appena appena. Ok, prima e dopo, prima e dopo. A questo punto possiamo andare su cielo. No, diciamo che il cielo mi va bene così. Posso andare su bagliore. Ok, su bagliore abbiamo il focus delicato oppure possiamo ottenere un effetto Orton. Ok, il famoso Orton effect. Che può essere ottenuto anche con Photoshop, ma bisogna saperlo fare, no? Imparare a farlo. Mentre qui, con un click, noi abbiamo ottenuto l'effetto Orton. Un effetto molto famoso, non ve lo spiego, potete andare a cercare su Google e troverete miliardi di tutorial sull'effetto Orton e su cosa fa. Se ne andiamo adesso a aumentare il valore, ovviamente non così, ma leggermente, diciamo a un 5. Questo era il prima e questo il dopo, senza l'effetto Orton. Ok, abbiamo dato quella sorta di patina. Ok, quindi l'immagine non è così definita, ma è leggermente più morbida. Ok, abbiamo utilizzato anche l'effetto Orton. A questo punto possiamo scendere ancora. Possiamo andare su Armonia dei colori, Donja & Bun e Super Contrasto. Allora, c'è anche il timbro cronico, come vedete. Quello che voglio fare io, in questo momento, adesso, è andare a rimuovere qualcosa, degli oggetti o delle persone che ci sono in queste immagini, che magari non voglio. Quindi, ad esempio, qui vedete che ci sono 6 persone. Come faccio a rimuoverle? Posso usare il timbro clone, ma posso anche provare ad andare su Cancella. Ok, andando su Cancella, clicco su Seleziona. Qui ho il mio pennello, come vedete. Qui posso utilizzare il mio pennello e andare a modificare le dimensioni. Diciamo che così va bene. E vado a ricancellare queste persone. Niente al conto di loro, però voglio ottenere un'immagine più pulita possibile. Vado a selezionarle. Ora clicco su Cancella. E come vedete, ha fatto un ottimo lavoro. Ok. Ci sono ancora due persone. Questa forse è un po' più difficile, ma noi vediamo cosa riesce a fare. Seleziono e clicco su Cancella. E anche qua ha fatto un ottimo lavoro. Vediamo se c'è ancora qualche elemento. Diciamo che questo, anche questo piccolo escavatore, diciamo che non lo voglio. Lo seleziono. Sempre col pennello dello strumento Cancella. Clicchiamo su Cancella. Vediamo cosa riesce a fare. E ha fatto un ottimo lavoro. È perfetto. Ok. Vedete? Ottimo. Quindi possiamo chiudere lo strumento Cancella. Abbiamo ripulito un po' la nostra immagine. E quindi abbiamo cancellato quello che non volevamo nella nostra immagine. Questo era il prima e questo è il dopo. Come vedete, non è che abbiamo stravolto l'immagine, ma siamo andati a fare delle piccole modifiche che però hanno migliorato sicuramente l'impatto. Ma non abbiamo finito. Adesso vogliamo creare ancora un po' più di tridimensionalità. Quindi dobbiamo creare delle zone più scure e delle zone più chiare. Quindi delle zone più scure che voglio che siano meno evidenti nell'immagine e delle zone più chiare che voglio che siano più evidenti nell'immagine. Come fare a fare questo? Allora andiamo ad esempio con il Dodge & Barn. Ci sono delle zone nelle nostre immagini che vorrei fossero meno evidenti. Ad esempio questa zona che non è una zona molto interessante, questa zona bassa qui nell'angolo in basso a sinistra. Quindi come fare per scurirla un po'? Ad esempio posso andare nel sviluppo, maschere, sfumatura lineare e crea una sfumatura lineare in quella zona lì. La zona rossa che si viene a creare è la zona in cui verrà creata la sfumatura dove io agirò. In questo modo andiamo su aggiustamenti e andiamo ad abbassare l'esposizione di quella zona lì. Così, forse così è troppo, diciamo così. È abbastanza coerente perché questa qui è una zona comunque in ombra. Ok, quindi questa zona l'abbiamo scurita. Ora andiamo ad utilizzare invece il Dodge & Barn. Quindi, come vedete c'è più chiaro e più scuro. Più chiaro, cioè Dodge, vuol dire che noi andremo a pitturare letteralmente sulla nostra immagine e dove andremo ad agire le zone saranno più chiare. Come vedete qui questi ghiaioni, queste zone sono più chiari. Diciamo che voglio accentuare queste linee. Quindi cosa faccio? Vado a cliccare su più chiaro, quindi su Dodge. Naturalmente dovete stare attenti al valore perché se noi facciamo così vediamo che ovviamente non va bene. Per tornare indietro, nelle ultime versioni di Luminar hanno inserito il Command Z o Control Z su Windows. Quindi Command Z e vedete che siamo tornati indietro di 1. Allora, andiamo ad abbassare naturalmente il valore, lo mettiamo su 9, ok? Ed andiamo a pitturare sulla nostra immagine. Quindi diciamo che queste zone, queste linee, le voglio un po' accentuare in questo modo. Qui, questa zona è una zona più illuminata, mentre questa zona è una zona più scura, naturalmente, perché la luce proviene da destra e quindi qui ci divertiamo un po' a creare così dei contrasti. Magari anche qui. Così sembra che non abbiamo fatto nulla, ma se state attenti, questo era il prima e questo il dopo, oppure andare sullo strumento qui, prima e dopo, vedete che c'è differenza, ok? Siamo andati a aumentare il contrasto in queste zone, ad accentuare un po' queste texture, se vogliamo chiamarle così. Possiamo andare ora su più scuro, quindi andare a scurire delle zone che voglio siano più scure, che mi interessano meno. Ok, quindi il valore lo lasciamo sempre su 9, 10. Il pennello andiamo a dimensionarlo come più ci piace e ci serve. Andiamo a scurire alcune zone, allora, se la luce arrivava da qui, come vedete, molto bassa, radente, potrebbe essere che, ad esempio, forse qui è una zona leggermente più scura, proviamo a scurirla leggermente ancora di più, in questo modo. Qui dietro, ad esempio, possiamo andare a scurire un po' questa zona, perché rimane dietro, appunto. In questo modo, infatti, vediamo il prima e il dopo. Vedete che qui siamo andati a scurire un po' questa parte. Naturalmente adesso io sto facendo le cose un po' velocemente, però con più pazienza e tempo possiamo andare a letteralmente disegnare sulla nostra immagine. Ok, dare un valore un po' più alto qui. Andiamo a scurire magari delle zone che vogliamo siano più scure. Qui. Questa zona. Questa zona qui. Noi stiamo facendo altro che andare a accentuare il contrasto che crea la luce. Qui. Ok, sicuramente sarete più bravi di me nel farlo. Diciamo che adesso questo era il prima e questo è il dopo. Ora andiamo a schiarire magari da qualche altra parte, quindi questa zona che invece è molto più chiara. Quindi andiamo a ingrandire un po' il pennello. Qui questa zona è colpita invece dalla luce e quindi lo andiamo a schiarire. Quindi andiamo a schiarire. Qui non c'è bisogno perché è già abbastanza chiaro. Quindi questo è il prima del doge e barn e questo è il dopo. Prima e dopo. Come vedete c'è una bella differenza. Ora cosa possiamo fare ancora? Accentuare un po' questa luce che arrivava da questa parte. Quindi per accentuarla siamo un po' creativi. Andiamo ancora su sviluppo. Maschere. Questa volta utilizziamo una sfumatura radiale. Ecco qua la nostra sfumatura radiale. Qui vediamo un po' tanti strumenti. Ovviamente non tutti perché sono molti. La luce abbiamo detto che proveniva qui da destra. Ok? Quindi questa zona è più illuminata rispetto ad altre. Perché è molto radente qui. Ok? Cosa facciamo adesso? Naturalmente dobbiamo invertire la maschera. perché la parte rossa è quella che andremo a modificare. Quindi basta cliccare su inverti. E' semplicissimo. Su aggiustamenti. E a questo punto aumentare un po' la luminosità. Diciamo in quella zona. E possiamo dargli anche una temperatura un po' più calda. Visto che il sole è al tramonto. State attenti a non fare robe del genere. Ok? Quindi muovete poco. Diciamo che già uno è più che sufficiente. Ok? Quindi se ne andiamo a vedere l'ultima cosa che abbiamo fatto. Questa maschera. Questa è il prima. E questo è il dopo. Come vedete una modifica molto sottile. Che però dà quel tocco in più. Se volete, non siete soddisfatti e volete modificarla. Possiamo andare sempre sul colore. Su temperatura più uno. Possiamo andare a resettarla. Perché secondo me era troppo caldo in questa zona. Quindi qui sono tutte le modifiche naturalmente che noi adesso siamo andati a fare. Abbiamo migliorato con la I. Abbiamo utilizzato lo sviluppo, il paesaggio, il bagliore. Abbiamo cancellato quello che non ci interessava. Abbiamo fatto questa maschera, il doge and barn. Abbiamo utilizzato un'altra maschera radiale. Ora diciamo che vogliamo andare ad accentuare un po' la luce anche sui teresimi di Lavaredo. Che purtroppo in questo momento erano all'ombra. Perché qui c'era una nuvola che andava a coprire il sole. Come fare? Possiamo andare di nuovo sul sviluppo. E volendo possiamo utilizzare ancora le maschere e possiamo utilizzare ancora una sfumatura radiale. Ok? In questo modo. Quindi andiamo a creare la nostra sfumatura radiale. La luce proveniva da qui. Molto sfumata. In questo modo. E' anche divertente, no? E' come andare un po' a personalizzare uno scatto che comunque abbiamo fatto noi. Quindi noi eravamo lì. Non è che l'abbiamo scaricato da qualche parte. Abbiamo camminato. Siamo stati lì. Abbiamo aspettato. Abbiamo preso il freddo. Abbiamo scattato la nostra fotografia. Ci siamo impegnati per farlo. E poi a casa possiamo essere un po' creativi. Ok? Quindi andiamo ad invertirla. Naturalmente questa maschera. Andando su aggiustamenti. Andiamo ad aumentare un po' l'esposizione in quella zona. Ovviamente di poco. Pochissimo. Giusto per dargli un tocco in più. Qui possiamo forse provare a aumentare un po' la temperatura di uno. E vediamo cosa è successo su quest'ultima maschera. Il prima e il dopo. Quindi ricapitolando. Prima e dopo. Prima e il dopo. Come vedete la tridimensionalità è sicuramente aumentata. E abbiamo utilizzato non molti strumenti di Luminar New. Perché ne ha molti di più. Però con pochi passaggi abbiamo sicuramente a mio parere migliorato questa immagine. Le possibilità sono infinite. Ok? Quindi abbiamo a questo punto volendo. Vogliamo scurire il cielo. Molti tendono sempre a scurire il cielo. Anche se io non sono un grande fan dello scurire il cielo. A volte va bene. Proviamo a vedere qui come va. La sfumatura naturalmente lineare. Naturalmente dovete stare attenti. Perché facendo così andrete a modificare anche le cime. Ok? Delle montagne. Quindi per quello che questo lavoro andrebbe fatto o sostituendo il cielo oppure utilizzando software che sono in grado di riconoscere in un attimo il cielo. Creare una maschera quasi perfetta ad esempio come Photoshop. Aggiustamenti. Esposizione. Possiamo diminuire leggerissimamente. E questo quindi era il prima e il dopo. Prima e dopo. Prima e dopo. Quindi possiamo davvero andare a fare molto. Ok? Ognuno poi ha il suo modo di vedere le cose. Io penso che questa immagine dal prima che era così che era una bella immagine comunque abbastanza bella. Ma così è un'immagine che ha più impatto sicuramente. Ha acquistato di tridimensionalità. Allora spero che questo come al solito lungo video. Io chiacchiero molto su Luminar Neo in questo caso a qualcuno sia stato utile. Quando ho qualcosa di utile farò dei video. I miei video escono così molto a random perché quando non ho niente da dire non sto a fare un video giusto per farlo. Se questo video vi è stato utile naturalmente vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati quando caricherò dei nuovi video. Nel link in descrizione c'è il link allo store di Luminar Neo se volete acquistarlo, se volete provarlo vi invito a cliccare su quel link. Farete un piccolo regalo per la sostenibilità di questo canale ma voi ovviamente non vi costerà nulla in più. Farete un piccolo regalo. Vi ringrazio ancora per la visione di questo video e vi aspetto sempre qui. Alla prossima. Ciao amici e a presto.